In un passo della Repubblica, Platone, a proposito del bene, lo definisce come epekeina tes usias, cioè al di là dell'essere o dell'essenza. Si tratta di uno dei passi che ha generato maggiori problemi interpretativi. Perché? A mio modo di vedere, questo passo non presenta particolari difficoltà, se si tiene presente che per Platone l'essere, l'usia, cioè l'essere nel senso pieno, è il mondo delle idee, perché solo le idee sono, mentre le cose mutano, divengono, non sono. L'idea del bene, essendo il principio di tutte le altre idee, cioè la causa sia della loro conoscibilità che del loro essere, è per questo stesso motivo al di sopra dell'essere. Epekeina tes usias significa infatti al di là, al di sopra dell'essere. Questo non significa che l'idea del bene non sia, cioè non sia anch'essa essere. Significa che è al di sopra di quell'essere che è costituito da tutte le altre idee, cioè essa è il principio stesso dell'essere. È una dottrina molto importante perché ad essa si riallaccerà poi il cosiddetto neoplatonismo, soprattutto con Plotino nel III secolo d.C., quando il principio di tutta la realtà, cioè l'uno, verrà posto ugualmente al di là dell'essere e quindi anche al di là del pensiero, della pensabilità, cosa che, a mio modo di vedere, non si può invece dire per Platone, perché l'idea del bene in Platone è conoscibile, è appunto l'oggetto della dialettica. Anzitutto è bene avere presente che cosa significa dialettica nel linguaggio comune per i greci. La dialettica è la capacità di discutere, di dialogare. E questo è anche il significato che la dialettica ha in Platone, soprattutto nei primi dialoghi, dove egli ci rappresenta le discussioni che avvenivano tra Socrate e i suoi vari interlocutori. Nel corso di queste discussioni, in genere, Socrate, attraverso una serie di domande rivolte al suo interlocutore, si faceva concedere una serie di premesse dalle quali egli ricavava delle contraddizioni con la posizione assunta inizialmente dai suoi interlocutori. Ricavare queste contraddizioni significa confutare, cioè dimostrare la falsità, l'insostenibilità di una determinata posizione. Quando poi Platone ebbe formulato la dottrina delle idee, egli continuò a impiegare questo procedimento, che risaliva già a Socrate, al suo maestro, sia per mostrare la necessità delle idee, sia per risalire dalle idee al principio di tutte le idee e di tutta la realtà, cioè all'idea del bene. C'è un passo famoso nella Repubblica in cui egli dice che la dialettica, per giungere a definire l'idea del bene, non deve basarsi su ipotesi, come fa invece la matematica, ma deve distruggere le ipotesi, il che significa, a mio modo di vedere, metterle in discussione, cercare di confutarle, e solo dopo essere passata attraverso tutte le confutazioni, questa è proprio un'espressione usata da Platone, di appanton elencon diexion, passando attraverso tutte le confutazioni, la dialettica giunge a individuare il principio anipotetico, cioè quell'ipotesi che unica è riuscita a resistere a tutte le confutazioni, e il principio anipotetico è appunto l'idea del bene, quindi è attraverso la dialettica, è sottoponendo a prove, a tentativi di confutazione, tutte le possibili ipotesi, che si perviene a scoprire un principio non ipotetico, capace cioè di resistere ad ogni critica, ad ogni tentativo di confutazione. Il distinguere secondo generi e non ritenere né la stessa forma per una diversa, né una diversa per la stessa, non diremo forse che ciò sia proprio della scienza dialettica? Sì, lo diremo. Chi dunque è capace di far questo, saprà ben percepire l'unica idea che ne pervade in ogni senso molte altre, ciascuna delle quali distinta e molte diverse tra loro, e comprese per di fuori da una sola, come a sua volta quell'unica idea che attraverso molte pluralità conserva la propria unità, nonché quelle distinte, assolutamente non collegate fra loro. Ora, sapere come le singole forme possano accomunarsi fra loro e come no, è per l'appunto saper distinguere per generi. Proprio così. Alla facoltà dialettica, non l'attribuirai, credo io, a nessun altro, fuorché a colui che sappia filosofare con animo puro e giusto. E chi potrebbe attribuirla ad un altro? Il filosofo dunque lo troveremo in questo luogo e adesso e nel futuro, qualora lo cerchiamo. Difficile a vedersi con chiarezza anche lui, ma ad un carattere diverso. È la difficoltà del sofista, e la sua. Come? L'uno, infatti, rifugiandosi nella tenebra del non essere, dove come pratico si muove a suo agio, data l'oscurità del luogo, è difficile lasciarsi scoprire, non è vero? Così pare. Mentre il filosofo, aderendo sempre con i suoi ragionamenti all'idea dell'essere, per lo splendore del luogo, non è punto facile ad essere visto. Giacchè gli occhi dell'anima nei più sono inetti a resistere lungamente alla contemplazione del divino. Platone considera la matematica una via d'accesso indispensabile alla dialettica. Quale significato egli attribuisce alla matematica? Non bisogna dimenticare che al tempo di Platone la matematica era l'unica scienza che fosse pervenuta a darsi uno statuto epistemologico compiuto, cioè l'unica scienza che avesse raggiunto propriamente il livello di scienza, cosa che non si poteva dire per la fisica, per la biologia, eccetera. Questo fa sì che la matematica assuma un grande valore agli occhi di Platone. La matematica, appunto, è scienza, non è conoscenza empirica, è conoscenza dell'universale, è conoscenza di ciò che è vero sempre, cioè è conoscenza dell'eterno. Dunque, la matematica aiuta la mente ad innalzarsi al di sopra della realtà empirica, ed in questo senso costituisce il migliore allenamento, per usare un termine sportivo, allenamento della mente, dell'anima, alla conoscenza delle idee. È noto che Platone, nella Repubblica, prescrive ai futuri filosofi un lungo curriculum di studi in cui la matematica occupa la posizione preeminente. Circa dieci anni di studi matematici sono necessari, secondo Platone, per potersi dedicare con successo alla filosofia. in cui la matematica occupa la posizione preeminente. Grazie. Grazie.